Ma io parlo proprio a te, a Lina, Stefano, Elisabeth, Cinzia, Paolo, Stefu, Elisa, Mattia, Paola, Anna Maria, Jacqueline, Carlotta ma molte molte altre persone che sono state vittime di questa truffa di Temu non lo sappiamo non riusciamo a capire se è Temu che fa queste truffe o gente che si spaccia per Temu perché ho incontrato dei commenti nello scorso video davvero incredibili non potevo credere ai miei occhi perché queste persone che ho citato sono state vittime di questa truffa e purtroppo alcune ci hanno rimesso davvero tanti soldi infatti mi rivolgo a Onin che possiamo leggere il commento nel video precedente della truffa di Temu che mi ha detto di aver dato 7.000 euro 7.000 euro per poter guadagnare ma ancora peggio, grazie al nostro video che abbiamo fatto lei non ci ha rimesso 18.000 euro ebbene sì, ma una persona può dire ma io non avrei mai dato 7.000 euro non riuscirei mai ad arrivare a 18.000 euro ma signori, la truffa di cui siamo oggi di fronte è una truffa dove ti promette ti promette sempre dei guadagni più alti e noi li vediamo li vediamo questi soldi maturare nel nostro account perché è un account fittizio io ho parlato con alcune persone di cui vogliono cercare di cancellare l'account ma in realtà non è un account è semplicemente un sito creato apposta da questi truffatori per poter rubare soldi e questo sito è creato proprio ad hoc dove noi possiamo visualizzare cifre esorbitanti cifre in cui noi abbiamo depositato ma sono tutte fittizie perché loro i soldi dal momento che voi li inserite li mettete attraverso le criptovalute che non sono tracciate lui o lei o i signori se li rubano li rubano ve li fanno vedere in questo sito creato ma i soldi non ci sono più difatti anche altre persone come Vanessa Cecilia che il primo giorno ha versato 63 euro il secondo giorno 140 euro più 92 il terzo giorno volevano 500 euro da poter versare ma se Vanessa avesse versato questi 500 euro sicuramente nell'account veniva l'account veniva sbloccato e poteva visualizzare una cifra più alta ma quei soldi non esistevano più già perché comunque nel terzo giorno l'account sarebbe andato in negativo e Vanessa avrebbe dovuto anticipare 800, 1000 euro per poter ritornare col saldo in positivo no è tutta truffa non cadete in queste truffe io mi rivolgo a tutte queste persone che purtroppo ci sono cadute perché volevano semplicemente un lavoro part time volevano semplicemente guadagnare volevano semplicemente vivere quindi se volete supportarmi con questi video sulla scoperta di truffe del genere io vi chiedo di contattarmi e raccontarmi la vostra esperienza quindi anche su potete scrivermi su Telegram oppure su Instagram vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione potete raccontarmi la vostra storia o se avete altre truffe di cui non trovate nulla online quindi se volete offrirmi un caffè potete cliccare su questo link io queste donazioni le userò per poter portare avanti il lavoro che svolgo attraverso il canale a me dispiace molto per queste persone di cui ho citato all'inizio hanno tutta la mia solidarietà e quindi fatemi sapere e se volete sostenere questo video mi raccomando iscrivetevi al canale commentate lasciate un mi piace e condividete perché così almeno aiuterete me con questo canale a portare molti più contenuti e poter sgamare altre truffe quindi ci vediamo al prossimo video mi raccomando state molto attenti a queste truffe ci vediamo nei prossimi aggiornamenti perché probabilmente io contatterò questa persona e vedremo cosa mi risponderà quindi ci vediamo al prossimo video rimanete sintonizzati ci vediamo ciao